Il treno intersini 5-9-2, treno Italia, proveniente da Roma Termini e diretto a Fiesta Centrale, dell'ora di 19.52 è il mattino al binario 3. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla, per Marzellana, Romino, Terme Lucano, Attarmanico, amatissi e rovito, adatt, benetimen e rinzalano, abiturato, ruolo, caos, bene, con il Vila Camigliani, Romigliani, a Quineviagrano, a Palluvino, nella prima classe, da Llezione, Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.